Super Terra La nostra casa Prosperità Libertà Democrazia Il nostro stile di vita Oh, salve! Ma la libertà Non è gratis Santissima libertà Scene come queste Stanno accadendo in tutta la galassia Proprio ora Tu potresti essere il prossimo A meno che Tu non prenda la decisione più importante Della tua vita Dimostra a te stesso Che hai la forza E il coraggio Di essere Libero Unisciti Agli Hell Time Divento parte Della forza di pace D'elite Praticamente È un messaggio Scopri nuove forme di vita esotiche Scopri nuove forme di vita esotiche E diffondi la democrazia contro In tutta la galassia Diventa un eroe Diventa una leggenda Però è bello Diventa un Hell Diver Che bello Mi hanno conquistato Diventerò un Hell Diver Allora, Hell Divers Il primo È uno dei miei giochi preferiti Di sempre Mi aspetto grandi cose Da questo Secondo capitolo Perché il primo era Nella sua semplicità Era perfetto 48.000 allievi Di metà Medi 19 anni Preparazione media Al combattimento 27% Tasso di padriottissimo Medio 97% Sono tutti fomentati Ma sono ignoranti Come le zappe No, non mi dispiace Graficamente È molto carino Vabbè Eppure l'inizio Era chiaro Bisogna Bisogna fare patti Che Scendere a patti Che non è quello Che hai giocato tu Eh sì No, perché volta Messa sul cazzo Che non posso fare Couch co Quella cosa Era la cosa migliore Usa la mappa Per arrivare Alla madonna Ok Hanno lasciato La mappa Molto bella Apri Ed è in tempo leale Se non corri Se cammini Puoi guardare la mappa Appena corri Ti si toglie Perché stai guardando Perché guardi il braccio Attenti Sono il generale Fresh Il soldato più anziano ed esperto della super terra E non è affatto facile e impressionante L'addetramento degli Helldiver È il più duro della galassia Obbicino Chiaramente non per te Incredibile Ora basta con le chiacchiere Le prossime sfide metteranno a dura prova anche il tuo fisico straordinario Ok Questo è il momento Questa è roba seria Impegnati soldato Bello Tutorial sotto forma di addestramento Come molti Call of Duty tra l'altro Assieme Sono lì qua ma aspetto qualche cazzata in più Allora Se cammini devi premere A Per salire Per scavalcare Ma la cosa bella è che se corri Lo fai in automatico Molto intelligente Stay down Stay safe Giustamente Ho capito Allora Il punto è che devo fare Il tuffo Ma non ci rimane Si rialza Eh allora No devo stare così Ah e poi Ah e forse Aspetta fammi provare una cosa Perché mi sei rialzato prima Ma rimane giù Molto carina Questa c'era anche nel divers normale Perché le torrette Se no ti segavano Proprio che era una bellezza Eccellente Come dico sempre Non c'è simulazione migliore Della realtà Ora Attivare simulatore Di danni da battaglia Strici Ti sono danno Prendi quello stimolante E rimettiti in sé Ok quindi come si Si fa a stimolare Su Vedi che siamo Una donna Allora è l'armatura Che la fa Prendi un'arma E insegna A quell'insetto Cosa vuol dire Libertà Precisione spettacolare Ora Zetta una granata Per sigillare Quella buca di insetti Altrimenti Continueranno Ad arrivare Ah Questa è una nuova Meccanica Credo Lancio Granata Lancia Deve essere preciso Deve farla all'occhio Non c'è neanche la parabola Guarda in alto nel cielo Quello è un super destroyer Guarda in alto nel cielo Quello Usa uno stratagemma Per liberarti di quegli insetti Uno stratagemma Assicurati di stare a qualche passo Appa la madonna Vabbè come quell'altro Attacco orbitale di precisione E' esattamente come il divers Fatto malissimo Ok Che soldato Fratello Uomo a terra Non preoccuparti soldato Il fuoco amico E' inevitabile Nella Non può fare nulla per evitare Tuttavia Quello che puoi fare E' usare lo stratagemma Rinforzi Per sostituire Il tuo compagno Cazzino Aspetta Lo stratagemma Rinforzi Questo è quello Che si preme più spesso Nel Divers Benvenuto Helldiner Molto bene soldato Ammiro la tua determinazione Non è mai pronto il tutto Reclota Adesso facciamo sul serio Sarete solo tu L'arma che porti E 2000 megatoni di esplosivi Attorno a te Dacci dentro Solo un consiglio E' difficile mirare quando ti muovi Per una migliore precisione Resta immobile quando spari La gradete una tazza Di libertè Di libertè Vabbè E' veramente molto simile Le meccaniche Sarete le combinazioni Sono diverse però Eh la devi mettere giusto Eh lei è stato troppo vicino Troppo vicino Il muro non arrivano Ah giustamente Pericolosissimo Pericolosissimo Guarda che quando ricarica La mitragliatrice Si ferma proprio E si butta giù Quest'area Ha urgente bisogno Di essere liberata Dal flagello dei Terminidi Attiva quel terminale Il flagello dei Terminidi Mai visto attivare un terminale Con tanta eleganza Da qualche parte C'è la bandiera Nella super terra Trovala e sistemala Che tutti ammirino La sua gloria democratica Ah devi metterla Assicurati di mostrarle Il rispetto che merita C'è il tasto specifico Per fare il saluto Alla bandiera La musica epica In sottofondo Porca puttana Beh usa l'artiglieria pesante Te l'ho andata appena L'ho già usata Ma dovrei ricaricare Ci vuole un sacco di tempo A ricaricarla Ti pompano Ho capito Ho capito Mi ricordi me Da giovane Forte E adesso La più grande Di tutte le sfide La guerra galattica Democrazia Giustizia Ho capito Perché c'hanno Il 20% Di addestramento Perché hanno fatto questo E poi Hanno bisogno Di ricambi Capito Il 20% Svabababam Allora, Eldivers non aveva una campagna, credo che non l'avrà neanche questo Secondo me qualcosa ce l'avrà Il primo gioco aveva semplicemente una campagna condivisa multiplayer Dai un nome alla tua nave, Super Destroyer, sorvegliante del regime Ah, sorvegliante del regime, del merito individuale Allora, la voglio chiamare, aspetta Rappresentante eletto del merito individuale Ha scritto tutto Rappresentante eletto del merito individuale Ah, li frizzano, vedi Complimenti per l'addestramento completato, Eldiger Ora sei responsabile di questa nave L'ufficiale democratico ti attende sul ponte Benvenuto nella guerra galattica Morta lei Vibrano le labbra, non parla Posso fare questa cosa quando voglio Ah, vedi, possiamo cambiare anche la armatura Sicuramente ci sarà Il tipo di corporatura Eh sì, lei è muscolosa Devo dire che questo Eldivers è proprio ottimizzato bene Io faccio il reso e lo prendo su PlayStation Che dici? Sì, però prima giochiamoci Almeno fammi vedere Prima giochiamoci un po' Fammi vedere Però io vorrei fare il reso e prenderlo su PlayStation Ok Rintraccia ed elimina il comandante di Covata Quindi è una sola missione Vabbè, è facilissimo Si può giocare pure da soli a Eldivers Non devi giocare per forza con gli altri Però è più divertente Eh no E adesso? Si, io Porco Era proprio telefonata questa Dai che non ha problemi su PC Questo è perché PlayStation ci sta io Te lo stanno boicottando Eh io ora faccio il reso e lo prendo su PlayStation Pi 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 Sta caricando Caricamento Si Ma puoi manovrarlo l'HellPod Lo sai? Ah si? Lo sa scritto Quella gran puttana di sua mamma Stanno arrivando un po' Nooo cazzo Queste sono le sentinelle Se questi qua ti sgamano Poi arrivano quelli più grossi E sono arrivati E così come sono arrivati Se ne sono andati Immaginavo che arrivassero quelli grossi Perciò gli ho sparato l'attacco orbitale Voglio vedere magari qua dentro ti trovi qualche potenzialamento Di solito su Eldivers ci sono i punti ricerca che trovi sui pianeti Diciamo che lo stealth non si fa No si dovrebbe fare però Vicino a voi te Quindi ti colpi no? Eh si Zero di sette però devi soltanto ricaricare L'altro ti conviene Il fucilozzo Ok il combattimento è molto più intenso questo qua rispetto a quello E che cazzo Oh cazzo Minchia Tieni prova Gli è spezzato una roba ma non gliene è fregata in cazzo Eh lo ha eliminato il comandante Mi dovevo solo andare Estrazione disponibile Quella è la torretta per chiamare la nave Che do' fa? Ah c'è stata davanti Lasciamo Adesso devi resistere per un paio di minuti Bellissimo Puoi usare l'attacco aereo Eh intanto che lo imparo E lo lanci Ok La vita è la dice perché non me l'ha data Eh la devi caricare No l'ho fatta L'hai lanciata? Eh Adoro Vai lancia Eh devi fare prima questo Ah no Volevo lanciarla addosso alla gente Non per la La mitaglia di centri Che bello se volate le carcasse Come cazzo si Si Devi schiacciare lo stick di destra Per picchiare Eh no 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 30 secondi all'arrivo Anzi capisce dove posso saltare Ah boh questo è un colpo muoio Che bel suono che fa st'arma Dove arriva? Qua vicino Eccola là Dietro dietro Ok E' uno a uno raga E' il divers uno a uno Si sono presi il tempo che volevano per farlo proprio TPS e FPS quando serve Funziona però La base, il gioco di base funziona Le meccaniche sono identiche e non hanno cambiato quasi niente delle meccaniche base Si hanno detto Volete giocare nel Diverse? Appiatevi quelli vecchi Volete giocare a un TPS? Prendetevi questo Eh comunque non è un gioco full price 30 euro 39 Ho 40 euro Però se ti aspetta tutte le volte Sul bordello Interessante Sicuramente arriveranno molti altri gameplay Anche su Relax Che io lo giocherò di sicuro Non so se tu voglia prenderlo o meno Però nel caso E' simpatichino E' simpatichino Però Sai cosa? Non è pericoloso come gioco No, sapete? Non ti da quella cosa che dici Vabbè Mi ci chiudo E io per questo lo adoro Ti fai una partita ogni tanto Questo mi piace molto Alla prossima